Ciao bambini, oggi facciamo insieme dei giochi di matematica. Ci alleniamo a fare i calcoli. È un gioco da bambini grandi, quindi preparatevi, cominciamo! Guardate questa colonna che vi sto mostrando. Quante celle, cioè spazi ha? Contateli! Bravissimi, sono proprio dieci! Guardate bene, memorizzate, perché questa colonna è la decina. Tutte le volte che la guardate dovete già sapere che è uguale a dieci. Adesso che sapete cos'è la decina, possiamo iniziare i nostri giochi. Facciamo un altro calcolo. In questa immagine, la vaschetta della decina è tutta piena di pesciolini. Ma due pesciolini vogliono scappare. Se due pesci scappano, quanti pesci restano nelle vaschette? Per aiutarvi a risolvere questo calcolo, potreste fare una X sui pesci che scappano. Due pesciolini sono scappati, quindi fate due croci su due pesciolini. Adesso, quanti pesci restano nelle vaschette? Facciamo un altro calcolo. Nelle vaschette della decina ci sono otto pesci. Ne vogliono scappare due. Se ne scappano due, quanti pesci restano nelle vaschette? Potete aiutarvi facendo le X sui pesciolini che scappano. Due pesciolini sono scappati. Quanti sono rimasti? Nelle vaschette della decina ci sono sei pesci, ma cinque vogliono scappare. Sei pesci meno cinque pesci. Quanti pesci restano? Per fare il calcolo, potete aiutarvi facendo le X su cinque pesciolini, quelli che sono scappati. Quanti restano nella vaschetta della decina? In questa immagine, tutte le vaschette della decina sono occupate dai pesciolini. Ci sono dieci pesci. Meno tre pesci, meno un pesce. Quanti pesci restano? Potete aiutarvi facendo le X sui pesci che scappano. Meno tre pesci, meno un pesce. Quanti pesci restano? Facciamo un altro calcolo. Nelle vaschette della decina ci sono sei ranette. Più tre ranette, meno due ranette. Alla fine, quante rane ci sono dentro le vaschette? Per fare questo calcolo, potete disegnare altre tre ranette più tre e poi, meno due ranette, fare due croci su due ranette. Adesso potete calcolare bene quante rane ci sono dentro le vaschette. Per fare questo calcolo, potete fare le X sulle ranette che vanno via, meno... Per fare questo calcolo, potete fare le X sulle ranette che vanno via, meno... E poi disegnare invece le ranette che si aggiungono più... 8 ranette, meno tre ranette, fate 3X sulle tre rane che vanno via... E poi disegnatene altre due, più due ranette. Quante rane adesso ci sono dentro le vaschette? Bene bambini, per oggi ci siamo esercitati abbastanza, siete stati bravissimi. Quando volete, tornate a fare i giochi di calcolo. Ciao!